eccoci qua amici bentrovati anche oggi in diretta dal mio canale twitch oggi sono molto contento perché inizio con un nuovo format che per me era fondamentale ne avevamo parlato tanto anche nelle prime riunioni insieme ai ragazzi che si occupano del canale quindi kevin marco in primis ma ovviamente anche raff e taffy volevo portare uno dei miei mondi all'interno di twitch un altro dei miei mondi all'interno di twitch uno di quelli però più importanti dal punto di vista proprio del peso specifico ovvero il mondo del sociale quindi nasce oggi questo format the cause ovviamente la citazione è un brano dei no effects perché ci sono tante cause nel mondo che vanno supportate oggi voglio cominciare giocando un po in casa con un amico fraterno da ormai decenni che ha un'idea un progetto importante che porterà avanti attraverso la sua etichetta l'etichetta che gestisce da tanti anni avrete una sensazione di deja vu se seguivate quello che era il format rock talks all'interno del canale youtube di atti studio andiamo a avere a che fare con il mio amico ilice rausa eccolo qui ciao zio grande andre grazie mille come sempre se un mito come fare a non ringraziarti per la sensibilità e per l'attenzione su tutti questi temi noi abbiamo fatto una strada anzi abbiamo fatto due strade parallele una è questa che stai presentando oggi su su varie cause sul supportare varie cause e si è mossa parallelamente all'amicizia e al rapporto discografico che abbiamo avuto ed è un capitolo molto importante perché noi e questi questi due percorsi li abbiamo incrociati a un certo punto quando ti è venuto in mente di realizzare un progetto che si chiamava pangos acusti che serviva per supportare una delle varie cause di cui di cui abbiamo parlato in questi in questi anni e noi l'abbiamo sposata subito io l'ho sposata subito perché mi sembrava una cosa super interessante e visto che siamo attenti sempre agli altri dobbiamo anche farlo nella maniera più concreta possibile questo era uno dei modi e quindi ti ringrazio per avermi per avermi invitato qui allora tutto nasce un po a caso tra l'altro mi riaggancio a un tuo post che che hai messo sui social qualche giorno fa che era che legato a un bellissimo libro che dovrò cominciare a leggere che si chiama on the brinks legato al bellissimo pezzo che è un violino straordinario che che avete messo insieme che hai messo insieme bellissimo questo questo libro di sam miller che parla di una di una storia vera e si ti ho mandato subito un messaggio dicendo che in qualche modo questo progetto che si chiama education for the future è legato a una storia vera e mi lega un libro anche in questo caso e quindi ti racconto veloci racconto velocemente come è andato il tutto stiamo parlando di un progetto education for the future che è legato all'india quindi è un mondo molto diverso dal nostro in cui la povertà è una realtà concreta tangibile di tutti i giorni però un mondo molto lontano e che quindi non abbiamo mai non ho mai toccato con mano non ho mai pensato alla possibilità reale di andarci se non dopo aver letto un libro incredibile che si chiama shantaram che consiglio a tutti di una storia vera e io sono appassionato di queste storie vere e alla fine di questo libro incredibile mi son trovato a conoscere mumbai praticamente perché andavo a guardarmi su su maps e su google tutti i posti dove era ambientata realmente questa storia e finito il libro letteralmente chiuso all'ultima pagina sono andato a prenotare un volo e mi sono diretto a mumbai lì ho conosciuto delle persone straordinarie perché in questo viaggio che aveva una tappa a mumbai un'altra in nepal poi a katmandu dove ho incontrato degli altri amici che si occupano di ong e quindi di volontariato e di beneficenza ho incontrato queste persone che vivono nello slam più grosso tra i più grossi al mondo che si ad arabi e sono rimasto colpito insomma dalla necessità necessità che hanno anche molto basiche rispetto alle nostre i problemi che abbiamo noi poi tante volte sono veramente relativi questa è una cosa da sottolineare tantissimo e con queste persone proprio durante il covid essendo stati poi rimasti in contatto negli anni proprio durante il covid cercato di capire in che modo si potevano aiutare e e allora loro è venuta un'idea in in primis di vendere delle magliette eh nostre e abbiamo messo insieme tantissime abbiamo spedito mille cinquecento magliette a mumbai proprio nello slam che state vedendo eh di 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 magliette di ogni tipo che c'erano avanzate di gruppi stampe venute bene stampe venute meno bene eh quindi quel found in the vault inviate lì loro le vendevano al di fuori dello slam quindi persone che se lo potevano permettere a un dollaro solo e con quel dollaro mettevano insieme dei pacchetti di cibo che distribuivano le famiglie che altrimenti non potevano muoversi e uscire dallo slam e lavorare eh da lì è cominciato un percorso e abbiamo detto senti ma cosa ci può eh essere di interessante possiamo fare insieme di concreto oltre a dare del cibo che è una cosa che sia un da eh un supporto diciamo nell'immediato ma oltre questo cosa ci può essere e lui diceva guarda eh il problema più grosso è l'abbandono della della scuola e quindi eh uscire dalla dal percorso educativo troppo presto e quindi non c'è possibilità per questi ragazzi di uscire dalla dalla loro situazione e detto questo ci siamo organizzati e con road records abbiamo parlato con tutti quanti tutti i ragazzi road records sono entusiasti abbiamo costruito questo percorso insieme abbiamo affittato uno spazio insieme a questo a questi ragazzi che con cui eravamo in contatto abbiamo fatto un accordo con delle insegnanti che vengono da questo slam e adesso dopo un paio di mesi ci sono 47 bambini che gratuitamente possono eh apprendere e e riuscire a speriamo superare gli esami che ci sono quest'anno quindi cerchiamo di porre le basi perché ci sia una diciamo un'uscita da quella condizione che è eh quella di povertà e di ignoranza generale ecco allora eh zio mi piace perché sei partito come un treno ti eri studiato la lezione no eh sì no ma più che altro perché la sto lo sto raccontando un po' tutti così eh abbiamo esaurito già tutto ma non è vero no scherzo scherzo allora no eh faccio un passo indietro per permettere magari chi non è affine al mondo o delle ONG o ovviamente non conosce magari il percorso eh discografico di di una label eccetera metto un paio di puntini su lei allora Rude Records innanzitutto per chi magari appunto non si è recuperato quella che è la nostra intervista fatta ormai un paio d'anni fa in Attitude Studio ehm è una label internazionale che ha a che fare con il mondo dell'indipendente ma non solo e che ormai è attiva da da quanti anni esiste Rude Records? Quasi venti? No allora l'anno nel novembre del 2020 abbiamo festeggiato vent'anni quindi ah ok qui sì venti ok qui ci ha cambiato il mondo nel frattempo sì vent'anni è cambiato il mondo nel frattempo ecco Rude Records ha tantissime band ha lavorato con tantissime band in tutto il mondo questa è una cosa sicuramente importante eh prima citavi il PGA io ho ritirato fuori come vedi alcuni poster no qua dietro grandissimo legati a quell'esperienza un'esperienza che siamo riusciti a portare avanti insieme eh non solo anche con l'ultimo album dei Undead pubblicato per Rude Records eravamo riusciti a recuperare il anzi ad ottenere il patrocino di Amnesty International e a destinare alcuni fondi di alcuni brani proprio alla alla causa di una delle ONG più importanti al mondo per quanto riguarda la difesa dei diritti umani però ecco una cosa che è sempre abbastanza complicata da far passare alla gente comune è come riusciamo a passare dalla musica dall'essere un'etichetta discografica in questo momento ancora più difficile no perché non ci sono i concerti quindi mancano tutta una serie di introiti c'è la gente che sui social non fa altro che giustamente eh lamentare una situazione particolarmente complicata per gli artisti e per tutto ciò che gira intorno anche economicamente parlando no al mondo della musica che cosa porta una label tra l'altro indipendente quindi non una major che ha magari delle disponibilità differenti a eh sposare cause sociali e in che modo può scegliere di eh andare a destinare questi fondi in un mondo che come dicevi giustamente tu in questi vent'anni è cambiato cioè non è che si va più nei negozi tendenzialmente si compra il cd e due euro di quel cd poi vengono tassati eccetera eccetera e arrivano in qualche modo cioè cerchiamo di esplicitare per chi eh magari non è eh friendly con questo mondo come funziona certo allora c'è da dire intanto una cosa è vero la discografia è cambiata enormemente in vent'anni quindi sono vent'anni che ci occupiamo di 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 far uscire dischi di promuovere band e tutto è cambiato cioè si è passato da dal fisico sostanzialmente eh internet era non dico agli albori ma all'inizio quando abbiamo cominciato a promuovere le band esisteva myspace le altre piattaforme non esistevano e come se stessimo parlando di un'era storica completamente diversa eh paradossalmente eh quest'anno il fatto che ci sia stata la pandemia in un momento in cui eh eh tutto si era convertito in digitale questo paradossalmente ha fatto in modo che la crisi che hanno subito tutti in maniera pazzesca tutti i settori legati alla musica quindi live l'entertainment eh le band che non possono suonare questa è stata avvertita meno per quanto riguarda il mondo della discografia cioè il mondo della discografia l'ha subita meno perché appunto lo streaming è rimasta una risorsa fruibile comunque e ovunque anche durante in questo periodo di di pandemia eh e noi proprio in questa occasione visto che siamo sempre comunque stati sensibili i i diciamo i progetti con te li abbiamo fatti partire tantissimi anni fa eh però siamo sensibili a questa cosa proprio in questo momento perché ci sentiamo tra virgolette fortunati pur essendo totalmente indipendenti quindi dobbiamo far fronte a a questa situazione anche noi ci sono delle difficoltà perché tante band eh vogliono posticipare le uscite dei dischi sono in crisi eccetera eccetera però ci sentiamo fortunati abbiamo voluto fare qualcosa veramente per gli altri in questo momento eh capiamo che nonostante facciamo parte diciamo del tutto della crisi globale la stiamo subendo un po' meno per via proprio di questa trasformazione dovuta al digitale e quindi ci sembrava necessario fare qualcosa fare qualcosa eh abbiamo cercato di di organizzarci in vario modo abbiamo organizzato anche altri altri progetti precedentemente anche durante il covid abbiamo fatto uscire un mixtape per esempio in cui destinavamo tutte tutti gli introiti il 100% degli introiti a a a a varie organizzazioni tra cui black lives matter eccetera eh e abbiamo detto la nostra parte dobbiamo farla quindi se possiamo dobbiamo destinare eh una una parte di quello che che il nostro introito eh a a dei progetti di questo tipo ci è venuto in mente di destinare proprio i più poveri siamo andati a a parlare con questi ragazzi ed effettivamente gli islam indiani che sono queste diciamo sorta di baraccopoli dove eh non ci sono regole dove non non ci sono le minime cose sanitarie insomma sono veramente eh messi messi male lì dovevamo fare qualcosa cioè questi ragazzi nell'immediato probabilmente hanno bisogno eh di 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 un supporto anche economico ma noi volevamo mettere il seme per per costruire qualcosa insieme a loro per elevarli da questa da questa situazione e quindi siamo riusciti a farlo adesso ovviamente non possiamo supportare tutto il peso sulle nostre spalle e dobbiamo coinvolgere anche perché è un bel progetto le altre persone per riuscire a a prolungarlo nel tempo a migliorarlo eh il progetto di education for the future e quindi riuscire ad avere magari più classi più bambini eccetera quindi stiamo chiedendo un supporto un supporto che è difficile chiedere in questo momento quindi siamo sempre incontro andiamo sempre controcorrente eh però bisogna sempre ricordarsi come dicevo all'inizio che nonostante la crisi adesso sia veramente dura perché non abbiamo mai assistito a qualcosa di questo tipo ce lo ricorderemo per sempre comunque ci sono persone che stanno molto peggio di noi eh e quindi e quindi magari un piccolissimo contributo può dare può dare una mano anche molto piccolo ehm in questo modo l'abbiamo pensata eh quindi eh diciamo che è una casa discografica per quanto possa avere eh le problematiche che hanno tutti in questo momento un piccolo sforzo lo può fare ecco eh dicevi abbiamo esaurito tutto della chiacchiera con il primo intervento in realtà hai aperto a dei mondi secondo me importantissimi io vorrei levarmi il cappello che stranamente oggi non ho eh perché innanzitutto in questo momento dove noi entriamo nei social e tutti coloro che hanno a che fare con la musica sono lì in parte ti dico anche giustamente no a lamentare questa mancanza di aiuti da parte del governo delle istituzioni eccetera rude records ancora una volta sceglie di pensare agli altri e non è semplice nel senso l'anno scorso esattamente un anno fa che cosa portavamo avanti ognuno di noi cercava con le proprie attività di raccogliere magari dei fondi relativi agli ospedali alle strutture per cercare di aiutare magari il personale sanitario noi l'abbiamo fatto a nostro modo con con undead voi l'avete fatto sicuramente in altre condizioni magari tante volte l'avete fatto anche come singoli no e questo è sicuramente importante non mi riferisco soltanto a te ma magari anche a chi ci sta guardando in questo momento e però ovviamente era più semplice no da un certo punto di vista dire allora aiutate il sistema sanitario in questo momento colpito stiamo dicendo che gli ospedali sono pieni che non ci sono le strutture la gente sta effettivamente morendo quindi ci tocca da vicino perché il coronavirus era fuori dalla porta di casa nostra no come in teoria è ancora adesso però con delle specifiche differenti quanto era difficile dire quanto era difficile soprattutto partire con l'idea di portare il problema lontano da casa dove a casa avevamo e stavamo vivendo una situazione particolarmente difficile e problematica e coinvolgere altre persone te lo dico perché io che mi occupo di diritti umani nel mondo no con amnesty dico spesso quanto è difficile no quando come in questo momento noi forse per la prima volta la nostra generazione sta vivendo una crisi umanitaria sanitaria in questo caso sulla propria pelle e con esattamente fuori da casa propria no al di fuori della porta del nostro appartamento quanto è difficile dire guarda che c'è gente che sta peggio di noi e quelle persone devono essere aiutate in questo momento perché è in questo momento che anche loro sono veramente ridotte ai minimi termini quindi il chapeau da questo punto di vista perché è complicato spostare l'attenzione su un'altra crisi e chapeau soprattutto perché la musica ancora una volta nonostante non venga in questo momento supportata come possono essere supportate altre attività sceglie ancora una volta di fare quello che la musica fa da sempre la musica semplicemente esistendo è altruista ok perché una canzone altruista per il fatto che viene pubblicata e che fa nascere sensazioni all'interno di ogni individuo la musica come sistema in questo caso rappresentato da un'etichetta discografica diventa ancora una volta più altruista è una cosa bellissima guarda questo è esattamente il nostro spirito è così andre quindi te che sei una persona attenta queste queste sfumature le le cogli e e così perché perché la crisi è diciamo che è globale veramente dobbiamo renderci conto in tantissime situazioni che viviamo in un mondo che è diverso alla stragrande maggioranza degli altri mondi in cui le persone non hanno veramente nulla è difficile è ragionissimo è difficile dirlo è difficile nel mondo musicale in cui te aperto un adesso una un argomento che è vero in italia soprattutto non viene riconosciuta no questa questa diciamo questa peculiarità della musica cioè non viene riconosciuta come un'attività reale anche se in tanti casi gli introiti dovuti alla musica sono enormi perché il concerto non è legato solo alla alla band all'organizzatore ci sono tante cose collaterali che si muovono e quindi persone che ci vivono famiglie che 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 hanno figli che li mandano a scuola eccetera quindi è una cosa molto importante questa è una cosa che deve passare soprattutto a livello diciamo politico e governativo quindi è un settore che ha bisogno di un supporto però in qualche modo prima o poi anche se ci lamenteremo eh tanto e continueremo a farlo la situazione tra qualche tempo tra qualche anno probabilmente andrà a posto ci saranno gli strascichi io penso che forse gli strascichi più grossi non saranno neanche quelli economici ma quelli psicologici che che avranno i teenager e gli adolescenti in questo momento in quei paesi invece nessuno dà una mano a queste persone perché non non esiste eh diciamo non esiste un welfare non esiste un'organizzazione c'è molta corruzione è è difficile che 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 cambi qualcosa queste persone l'unica cosa che sperano loro per sopravvivere è che finendo il covid torni e possano tornare a fare quello che facevano prima cioè quindi provare a fare le guide turistiche a vendere eh qualche gadget eccetera e a quel punto noi come facciamo a impedire che eh la situazione vada avanti allo stesso modo in alcuni posti eh dove c'è un divario tra poveri e ricchi come sai nei posti così in grande sviluppo ma molto ma molto diciamo eh arretrati da un certo punto di vista questo gap non verrà mai colmato bisogna dare una chance l'unica chance è è la cultura e l'educazione quindi noi abbiamo pensato di mettere lì il nostro impegno ehm e quindi penso che debba essere una causa di tutti sentirsi la propria dovunque ci troviamo perché in qualsiasi posto al mondo eh è questo diciamo lo strumento e la leva per cambiare il tutto e la musica può essere assolutamente il mezzo e come dicevi te la musica parla sempre più direttamente alle persone rispetto a tutto il resto è altruista nel senso che vuole rendere eh pubbliche eh tematiche che 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 possono possono essere eh fonte di discussione eh oppure sono sensazioni semplici che diventano anche qualcosa che che rimane tuo eh quindi la musica in questo senso è la cosa più diretta. Ecco stavo controllando mentre mi parlavi eh il il titolo e gli autori di una bellissima graphic novel che siccome tu sei un attimo lettore suggerisco anche a te perché abbiamo sentito no eh il termine slam magari non tutti sanno di che cosa si tratta questa graphic novel si chiama Lamiere è stata pubblicata da Feltrinelli Comics eh di Danilo eh Deninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti e racconta uno slam di Nairobi quindi situazioni sicuramente simili da un certo punto di vista racconta proprio come funziona all'interno di uno slam e giustamente tu dicevi corruzione certo mancanza dei servizi di base noi siamo qui eh giustamente non voglio farne una colpa perché poi ognuno si crea le sue necessità all'interno del mondo del quale vive siamo qui a lamentarci del fatto che ovviamente non ci siano supporti a determinate attività musicali quindi ce ne inventiamo qualunque no portiamo i bauli in piazza facciamo le le corse per sensibilizzare eccetera eccola manca tutto non è che manca il supporto a un determinato settore manca veramente tutto manca la legalità di base no di quelli che possono essere i propri rapporti tra le persone quindi oltre a consigliarvi questa lettura vi dico cerchiamo realmente di renderci partecipi di questa sensazione e andiamo un attimo proprio nel concreto come fare per aiutare io condivido questo schermo con quello che è il link che credo si possa trovare abbastanza ovunque sulle pagine legate a rude records che è il link della raccolta fondi attraverso il sistema go found me e qui vediamo appunto proprio come andare a fare delle donazioni per il progetto education for the future possiamo condividerla possiamo fare una donazione anche anonima poi vedete appunto qui dai venti ai cinque euro ai dieci eccetera quindi insomma è abbastanza semplice un pulsante io come ho fatto con altre cause appena esco dalla live vado a fare la mia donazione proprio anzi potrei farlo quasi in diretta per la tua donazione andrà il tempo che dedichi a queste cose quella è già più più importante di qualsiasi donazione concreta nel senso che è più concreta questa rispetto alle altre e quindi quindi sei un grande allora come funziona funziona così sì abbiamo pensato di utilizzare questa piattaforma che è go found me lì descriviamo nei minimi dettagli il progetto e come vi dicevo la scuola si è riuscita a farla partire quelle sono foto che ci ha mandato il nostro diciamo amico raul che si occupa di gestire la scuola e ci sono i ragazzi i ragazzi sono divisi in due fasce sostanzialmente vanno dai 6 ai 12 anni e poi c'è un altro slot che va dai 12 ai 18 bisogna concentrarsi il più possibile sui ragazzi più giovani perché non abbandonino poi la scuola e vogliamo andare avanti con questo progetto vogliamo aggiungere per esempio un'altra un'altra classe intermedia perché c'è stato una richiesta incredibile cioè le classi si sono riempite in nel giro di pochi giorni è un supporto enorme alle famiglie avere questa scuola che è totalmente gratuita vi ricordo è una scuola che affianca il sistema indiano cioè le scuole statali esistono e sono frequentate da questi ragazzi però queste scuole sono sovraffollate spesso non sono non c'è una grande preparazione e per questo l'abbandono è altissimo soprattutto da queste fasce più deboli cioè i ragazzini quando hanno dieci anni sono costretti quasi ad andare a procacciarsi da vivere e non potranno mai sperare di diventare un avvocato di diventare un consulente di viaggiare di uscire dall'india diventare una persona come siamo noi e quindi questa cosa importante bisogna dargli le basi poi decideranno loro però cerchiamo di veramente supportare anche chi ha più bisogno di noi e hai ragione è abbastanza difficile lanciare un messaggio così in questo momento però è anche questa è la verità c'era il poeta che diceva no man is an island no cioè non siamo divisi siamo tutti collegati e quindi dobbiamo riuscire a supportarci al di là delle frontiere di qualsiasi tipo comunque nel nel momento del tuo intervento io sono riuscito a fare la donazione quindi vuol dire che è velocissimo se un mito andre ci si mette ci si mette veramente molto poco perché è arrivata adesso non so se posso far 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 vedere o se o se arrivano i dati della mia carta al mondo intero no però ecco vedi ok ce l'abbiamo fatta vedi questo aiuto grazie per la donazione eccetera eccetera vi arriva la vostra ricevuta poi via mail che tra l'altro ricordiamo una cosa banale tutto ciò che fate di sociale è anche terribilmente facilmente scaricabile dalle tasse questo lo dico perché tante volte no anche attraverso il progetto pga abbiamo chiesto magari delle donazioni all'isola che non c'è ecco anche questo è sempre molto molto facile allora ti sei posto allora qui abbiamo visto nel nella sessione di go found me vi siete posti un obiettivo economico cosa significa quell'obiettivo è un primo step è un secondo step fa parte di un progetto più ampio allora quell'obiettivo che sono 12 mila euro diciamo quello che che servirebbe per per supportare il progetto per un anno intero e quindi sostanzialmente andando un po più nei numeri il costo è leggermente inferiore a mille euro al mese per lo spazio per i due insegnanti per un supervisore per qualche libro per qualche fornitura che abbiamo che abbiamo inserito adesso per non voglio metterlo sulla bilancia e dire tanto al chilo ma sostanzialmente con 20 euro si supporta l'educazione di un bambino per un mese ecco questo è per per dare un equivalente e quindi noi ci poniamo come obiettivo di supportare questo progetto almeno per un anno per un anno significa portare i ragazzi una cinquantina di ragazzi a scuola portarli a fare gli esami supportarli anche nell'anno all'inizio dell'anno successivo più contributi ci sono ovviamente più è migliorabile vorremmo inserire un'altra classe quindi non avere soltanto due classi ma averne tre quindi avere un altro insegnante sostanzialmente e come si vede dalle foto anche se i ragazzi indiani sono abituati così però servirebbero delle sedie per esempio le cose più banali ci sono delle famiglie che hanno anche bisogno gratuitamente di avere a disposizione i libri perché non hanno neanche quei pochi dollari pochi euro che servono per comprare i libri di scuola che poi verranno usati anche a scuola per i bambini quindi noi stiamo acquistando anche questi libri diciamo che più alto sarà il contributo più miglioreremo il livello diciamo di intervento attraverso questo progetto però quei 12 mila euro puntano ad avere una continuazione almeno per un anno allora faccio un attimo l'avvocato del diavolo e ti chiedo questo nel caso in cui non ci fosse da parte di qualcuno che vuole contribuire la disponibilità per una per una donazione in qualche modo si può contribuire in maniera differente quindi non dico magari proprio con la raccolta fisica di oggetti perché immagino che possa diventare abbastanza complicato perlomeno in questa fase no quindi tu dicevi giustamente libri quindi io immagino materiale scolastico di cartoleria classico che potrebbe appunto essere essere utile magari qualcuno ha i quaderni avanzati dei figli delle scorse delle scorse classi eccetera eccetera potrebbero essere utilizzati o magari appunto un po come avete fatto voi all'inizio qualche maglietta di qualche gruppo quindi magari troveremo questi questi ragazzi a Mumbai in giro con la maglia degli all time law questo sarà comunque una una conquista ma andiamoci a quello che stanno sicuramente meglio a loro che a noi eh ma guarda ci sono arrivate sono arrivate tantissime maglietti ci staranno girando persone con con maglietti di gruppi che non conoscono però eh sì assolutamente allora questo discorso è valido allora la cosa più semplice che si può fare magari anche se non si hanno i soldi per contribuire eh semplicemente magari condividere il posto inizialmente e poi sì il materiale ci serve noi stiamo parlando con alcune aziende eh che si occupano della della produzione di di diciamo di cartoleria in generale che potrebbero dare una mano quindi serve tutto le penne eh i quaderni eh i libri verranno acquistati là perché ci sono due lingue diverse qua è difficile trovare un libro in marati però o in indie però però sì si può contribuire in qualsiasi in qualsiasi modo eh se se si pensa che possa essere utile ad una scuola tutto il materiale benvenuto eh potete scrivermi direttamente o a info chiocciolaroodrecords.com o anche a ilic la mia personale chiocciolaroodrecords.com se avete da proporre qualsiasi cosa è bene accetta assolutamente faccio lo step ulteriore e prova a proporti una cosa sei liberissimo di eh di dirmi eh al momento magari non si può fare eh immagino che tanti musicisti e tante band andranno un po' a seguire quello che che stiamo raccontando in questo momento ecco tante volte le band sono state in primis promotrici di cause cose di questo tipo in questo momento nel quale magari appunto eh c'è la possibilità chi ha magari del dei sistemi di registrazione anche casalinghi di produrre delle canzoni delle cover o cose di questo tipo come abbiamo fatto noi ad esempio con il pga potrebbe essere un eh rude cares education for the future 2.0 eh realizzare una compilation chiedere il coinvolgimento artistico delle band per eventualmente creare anche qui un micro sistema economico con dei proventi da destinare alla causa allora intanto mi sa che te leggi nel pensiero perché questo è ovviamente uno dei è una delle idee ma allora posso farti una domanda in diretta se magari vuoi occupartene te visto che non è abbastanza cose da fare già vabbè ma si può fare si può fare allora assolutamente sì una cosa che abbiamo fatto come ti dicevo eh l'anno scorso e è un mixtape in cui diciamo che sono stati recuperati dei B-side che non erano usciti di varie band che erano unreleased le abbiamo fatti uscire eh e su SoundCloud in particolare e tutti i proventi al cento per cento sono stati destinati lì quindi sì assolutamente questo può essere il modo più semplice per connettere diciamo il nostro mondo quello della musica a a quest'altro avevamo fatto un progetto simile non so se ti ricordi si chiama music for boobies che supportava eh supportava una foundation molto molto interessante che si chiama keep a breast eh in America e assolutamente sì guarda nel tempo noi speriamo di portare avanti questo progetto per anni e anni il più possibile quindi eh lo spazio per fare queste iniziative c'è anche 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 da subito poi ne parleremo bene Andre bene bene volentieri l'abbiamo lanciata lì l'abbiamo lanciata è un grande bravissimo è facile che troveremo dei dei supporter a questa cosa ultima cosa poi ti lascio andare perché so che anche tu sei bello impegnato eh quanto è fondamentale per il raggiungimento di uno scopo e soprattutto per una testimonianza importante andare fisicamente nei luoghi noi quando abbiamo eh parlato per la prima volta della realtà dell'isola che non c'è perché l'avevamo toccata con mano siamo andati a suonare con quei ragazzi tu li hai conosciuti li hai visti eccetera eh quanto è stato importante per te andare in India e quanto per te te lo dico proprio a livello eh personale è doloroso in questo momento sa non avere una data per poter tornare da quelle parti a vedere eh realmente quello che siete riusciti a costruire eh vedi ancora te leggi nel nel pensiero ovviamente allora è importantissimo lo sai bene te che sei sempre in giro a supportare queste cause quindi eh anche anche in questo caso è stato importante molto importante e poi ci sono delle cose casuali come questo libro che ti portano a viaggiare ti portano a viaggiare a conoscere delle persone eh però alla fine al fondo di tutto c'è la passione perché questo è l'unica cosa che poi muove il tutto e quindi andare lì si è stato importante non non probabilmente non avremmo realizzato questo progetto perché non avremmo incontrato delle persone non avrei incontrato delle persone non avrei mantenuto dei rapporti non avrei visto quei posti che comunque ti impressionano l'India diciamo non dico che non è per tutti però è abbastanza complicata ecco non è il posto dove andrei a fare una vacanza neanch'io cioè eh è da comprendere a capire da capire dall'angolo giusto perché c'è la spiritualità sì che si può eh capire ma poi il resto è un posto per il resto è un posto eh scassatissimo appunto come dicevamo mancano veramente le cose principali e le prime necessità eh andarci il prima possibile sì ne stiamo parlando qui sarebbe bellissimo perché ogni tanto eh noi ogni venerdì abbiamo una chiamata con con questo ragazzo che gestisce quindi parliamo con gli insegnanti eh lui entra in classe ci fa vedere i bambini che fa lezioni li salutiamo ci salutano eccetera eh sarebbe bello andare a vederlo perché perché è una cosa reale poi è molto diverso eh vederlo attraverso un video e renderti conto di quella realtà e di che cosa comunque stai stai facendo beh allora facciamo così uno dei primi venerdì nei quali cambiano i colori all'interno di questa regione mi piacerebbe tanto assistere a questa chiamata quindi vengo vengo lì in ufficio da voi sei il benvenuto sempre Andrea assolutamente allora ricordiamolo ancora una volta Ruth cares education for the future per un progetto di eh educazione scolastica all'interno di uno slam in eh quel dell'India sarà importante il vostro contributo sia economico che dal punto di vista delle condivisioni quindi step uno condividete i link che trovate eh legati alla pagina di Ruth Records e per coloro che ci seguiranno in differita su YouTube che trovate inseriti nella descrizione del video in più se riuscite fate una donazione e se siete musicisti noi abbiamo già lanciato questo questo assist pensate un domani a un qualcosa per eventuali compilation operazioni di questo tipo zio Ilic grazie come sempre Andre grazie a te sei un mito davvero grazie di tutto di cuore davvero sei sei una persona incredibile grazie per il supporto per lo spazio e ci sentiamo prestissimo per per mettere insieme per procedere su questo progetto molto volentieri the cause we just do it for the cause grazie a tutti